Ma domani è la giornata dell'organizzazione per la democrazia dell'ONU, è caduta proprio per la pace e la tolleranza. Che facciamo? Cominciamo? Io partirei da te, a farvi commentare Turac. Buonasera, grazie per essere intervenuti a questo dibattito che cerca di fare un discorso forse non già sentito sul cosiddetto pantheon del Partito Democratico. Io sono Edmondo Ro, sono giornalista di Panorama, qualcuno di voi forse mi conosce perché in una delle mie vite precedenti ho fatto un po' di politica a Torino, nel Partito Socialista italiano, ero segretario della Federazione Giovanile qualche mesetto fa. Abbiamo Vannino Chiti che è il Vice Presidente del Senato, esponente di punta del PD e Ugo Intini che oggi si presenta come giornalista e scrittore, c'è un suo libro lì che poi vi invito ad acquistare sulla storia dell'Avanti. Ugo Intini è stato uno degli ultimi direttori dell'Avanti, questo storico giornale che poi ha avuto negli ultimi anni anche una vicenda oscura quando gli hanno messo una L davanti da parte di un faccendiere di nome La Vitola. Ma torniamo al nostro dibattito, il dibattito dice gli ascendenti del PD, Moro, Berlinguer e Turati e Rosselli, il PD e il riformismo liberal socialista. E io voglio cominciare appunto da Filippo Turati che in un potente discorso nel 1921, pensate che sono passati quasi cent'anni, al congresso di Livorno, quello che segnò la nascita del Partito Comunista Italiano con l'ascissione appunto da parte di Bordiga, di Terracini, degli esponenti del Partito Socialista filosovietici che crearono l'UPC. Turati a un certo punto in questo discorso diceva di se stesso, rimase il nucleo vitale dei socialtraditori, il vile riformismo, il marcio riformismo per alcuni, il socialismo vero per altri, immortale, invincibile, inesorabile, che può essere minoranza oggi, maggioranza domani, ma che salva il partito. Questa era l'autodefinizione di Turati e di se stesso, dei suoi amici. Ricordo che poi Turati fu anche espulso subito dopo dal Partito Socialista insieme a un certo Giacomo Matteotti. Ma Turati dice, noi siamo sempre stati socialtraditori in un momento, sempre vincitori alla fine. E fra qualche anno, quando anche il mito russo, che avete torto di confondere con la rivoluzione russa, quando questo mito, quello che è di religioso dei vostri animi, il mito bolshevico, sarà evaporato, quando il bolshevismo attuale o avrà fatto fallimento, sarà trasformato dalla forza delle cose, la nostra vittoria verrà. Questa è la profezia di Filippo Turati datata 1921. E vorrei chiedere a Valnino Chiti quanto è attuale questa profezia per il Partito Democratico di oggi. Intanto buonasera, buonasera a tutti. Mi fa piacere fare questo confronto, fare questo confronto con Ugo Intini, in cui ricordavamo prima abbiamo lavorato, apprezzato anche nel lavoro che abbiamo fatto in due anni difficili, quello dell'ultimo governo di centro-sinistra. che se sono convinto, se avesse avuto la forza di tenere, se non fosse prevalso quello che allora si chiamava la visibilità, il fatto che ogni forza politica doveva essere visibile, con l'assurdità che la rappresentazione esterna era molto peggiore di quello che avveniva nei consigli dei ministri. Credo che forse un pezzo di storia recente del nostro Paese sarebbe stata diversa e forse anche, e non forse, e sicuramente anche i temi che affrontiamo oggi. Ma il discorso di Turati al congresso di Livorno è per molti aspetti, il congresso di Livorno è un congresso drammatico, intanto devo dire. È un congresso drammatico perché in quel congresso si determinano due scelte, da un lato c'è l'ascissione e quindi gli indebolimenti comunisti che vanno via, dall'altro c'è l'espulsione di Turati e gli altri e c'è da parte di tutti, in questo devo dire c'era anche da parte di Turati, nella storia e nella biografia di Turati, una sottovalutazione del fascismo, cioè una sottovalutazione del fascismo, del pericolo fascista, di quello che il fascismo poteva rappresentare, che fa da cornice. Dicevo, in quel congresso ci sono, in quel discorso di Turati al congresso ci sono molti aspetti interessanti, non solo la critica, il tramonto e l'appuntamento dopo il tramonto dell'esperienza della rivoluzione russa, ci sono anche altri aspetti che sono interessanti, uno in particolare a me pare, che dovremmo recuperare come cultura progressista, per esempio tutto il discorso che Turati fa a proposito della violenza. Noi spesso diciamo, è un punto vero, oggi per esempio, nessuna forza politica, certamente non il Partito Democratico, ritiene che le lotte per trasformare una società, per fare le riforme, siano lotte che possano essere compatibili, non sul terreno della legalità, ma su quello della violenza. La non violenza è una scelta di fondo e diciamo, credo, in questa scelta della non violenza c'è certamente l'influenza di molti insegnamenti. La lezione gandiana, per dirne una del mondo, c'è certamente l'insegnamento del cattolicesimo democratico, del cattolicesimo, e però ci sono anche riferimenti che spesso si dimenticano, come quello che era posto da Turati. Turati dice che la violenza si può giustificare soltanto se c'è di fronte un regime che è un regime che lo impone, come una sorta di legittima difesa. Io penso, per concludere questa prima riflessione, io penso che oggi il Partito Democratico si proponga di essere sia un partito riformista progressista. Qui le parole non ci aiutano più, le parole della cultura politica non ci aiutano più, perché un tempo se uno avesse detto una forza riformista avrebbe già segnato una differenza non soltanto nell'ambito del dibattito nella sinistra, una sinistra che era più ampia, ma anche nell'ambito di un dibattito nei confronti delle forze di destra. Oggi la parola riforme, riformista non aiuta più a definire un campo e questo ci segnala anche la necessità, credo, di un approfondimento e di un rinnovamento della cultura politica. In ogni caso, nell'inadeguatezza delle parole, io penso il Partito Democratico vuole essere un partito riformista progressista, un partito riformista di sinistra. Credo che in questa impostazione l'insegnamento e la tradizione che viene da Turati, da Rosselli, da una parte importante del socialismo italiano sia importante e dobbiamo assumerla. Ho ripreso per questo dibattito un articolo che ha fatto sull'Espresso Scalfari il 15 marzo scorso, quello che aveva un titolo strano, non so chi l'ha letto, Cappuccino Democratico era intitolato. Diceva Scalfari in questo intervento, facendo la considerazione sul discorso del programma che era stato presentato all'ingotto rispetto ai precedenti culturali e politici nella storia d'Italia, a questo cito diceva appunto mi vennero in mente Turati, Gobetti, il socialismo riformista dei fratelli di Rosselli, il liberalsocialismo di Guido Calogero, infine Norberto Bobbio, Piero Colamandrei, l'identità profonda del Partito Democratico. Io penso che l'identità profonda del Partito Democratico in realtà sia data da altre cose, appunto questo forse intendeva anche il discorso del Cappuccino. Certamente è un'identità che non può non essere liberal-democratica, perché oggi la visione della democrazia, la visione della libertà, la visione dell'organizzazione dello Stato, la visione di una lotta che riesca a spostare l'azione delle riforme su questo terreno, come dicevo prima, è un punto fondamentale senza discussione. Dentro questo io penso che ci siano i contributi che possono essere e devono essere dati, costruendo però qualcosa di nuovo, perché c'è bisogno sia di un radicamento storico, sia della capacità di costruire sulla base del radicamento storico un'innovazione. Su questa base c'è un apporto sia del pensiero, della cultura, dell'esperienza diciamo cattolico-democratica, cattolico-progressista, sia di quella della sinistra, liberal-socialista, di questo ramo che viene dalla sinistra. Infine penso che queste componenti culturali, diciamo che queste componenti culturali debbano oggi misurarsi su un punto che ha posto con grande lucidità il Presidente della Repubblica Napolitano nel recente discorso che ha fatto a Venezia, mi pare, quando lui ha posto due questioni. Una, la necessità oggi di porre l'Europa come un grande obiettivo politico ideale, diciamo gli Stati Uniti d'Europa, anche qui c'è il recupero importante di una tradizione, di una componente che viene da lontano, qui viene anche dal pensiero mazzignano, dal pensiero laico-repubblicano, da ascendenti che sono addirittura nel XIX secolo, neppure nel XX, ma oggi, fino a Spinelli, oggi diventa di grande attualità, cioè se noi non concepiamo la lotta politica in un quadro anche europeo, credo che continuiamo a fare discorsi sulle anomalie italiane, sulle vie italiane che sono sempre diverse da quelle degli altri paesi e non andiamo da nessuna parte, quindi tema dell'Europa. E a posto l'altra grande questione che è la questione di partiti che siano partiti da costruire, perché non possono essere somma di partiti, ma di partiti che abbiano uno spessore, un'organizzazione, un'identità europea. Tant'è che Napolitano diceva facciamo in modo che le prossime elezioni per il Parlamento europeo, 2014, non sono lontane, possano avere un'unica legge per il Parlamento europeo, grande questione perché oggi ogni paese ha una legge per il suo conto, e possano avere scambi di candidati, possano avere un unico capolista che rappresenta quelle forze e le varie dislocazioni. In Italia su questo si rischia, si rischia di avere delle insufficienze e dei voti. Io penso che noi per quanto ci riguarda come partito democratico dovremmo riflettere e far diventare patrimonio più dentro la vita del partito, l'esperienza che si sta facendo in quel gruppo che si è costituito con l'alleanza progressista dei socialisti democratici, che cosa quel gruppo dà e che cosa quel gruppo può dare di più in termini anche di politica, di cultura e di organizzazione politica. A me sembra che questi siano dei temi che abbiamo di fronte e che hanno uno spessore di attualità più di quanto a volte sempre. Grazie a Chiti, poi riprenderemo il discorso sul socialismo europeo, perché ci sono altri temi di attualità. Vorrei invece a Ugo Intini chiedere un contributo rispetto a un pensiero che a me sembra abbastanza dimenticato, quello di Carlo Rosselli. Carlo Rosselli in Socialismo Liberale, 1929, scriveva poche righe intitolate I miei conti col marxismo, sono le famose 13 tesi di Rosselli che concludo dicendo le tesi sono 13, il 13 porta fortuna, chi vivrà vedrà. Io penso che siano particolarmente interessanti la sesta, la settima e la decima tesi. La sesta dice che il socialismo, in quanto alfiere dinamico delle classe più numerosa, misera e oppressa, è l'erede del liberalismo. E la successiva che è la libertà, presupposto della vita morale così del singolo come della collettività, è il più efficace mezzo e l'ultimo fine del socialismo. Quindi socialismo e libertà messe in giusto apposte, con la successiva decima tesi in cui Rosselli sostiene che il socialismo non si decreta dall'alto, ma si costruisce tutti i giorni dal basso nelle coscienze, nei sindacati, nella cultura. Ecco, in Italia in particolare, perché viviamo, poi lo riprenderemo con chi di questo discorso, in una situazione del tutto anomala, cioè in tutta Europa ci sono dei pariti socialisti che sono o il governo o l'opposizione, in Francia, Ollanda ha vinto le elezioni, l'Espede vorrebbe vincere l'anno prossimo in Germania, comunque sono partiti socialisti, socialdemocratici che aderiscono tuttora all'internazionale socialista, lo stesso vale per il Labour Party in Gran Bretagna o per il partito socialista obrero e spagnoli in Spagna. In Italia invece no, in Italia c'è questa anomalia, è un'anomalia italiana perché non si sono seguite queste idee di Rosselli ormai di oltre 80 anni fa, oppure perché c'è una specificità italiana degli ultimi vent'anni in particolare che ha portato a questa situazione, Intini? Grazie, ma io di questi tempi faccio il militante del mio piccolo partito di cui è segretario Nencini, non faccio politica attiva e cerco di rendermi utile dando un contributo sul piano storico, sul piano culturale, cercando di aiutare una sinistra che spesso appare senza identità a trovare un ancoraggio alla storia e alla geografia. Alla storia nel senso che la sinistra non è nata sotto un cavolo, la sinistra ha un'antica tradizione la quale si deve riappropriare perché senza passato non c'è futuro e la storia alla quale la sinistra si deve ancorare è quella del socialismo democratico. Un ancoraggio nella storia e un ancoraggio nella geografia perché c'è una famiglia dei partiti socialisti democratici innanzitutto europea, a quella famiglia dobbiamo appartenere a pieno titolo perché soltanto nella dimensione europea c'è la prospettiva di concludere qualche cosa di concreto e di utile. Questo io credo debba essere lo sforzo di recupero della identità della sinistra, questo deve essere il contributo che da un piccolo partito socialista che si sente parte di una famiglia più grande. Ro nel suo intervento ha citato giustamente Turati, io di questi tempi sono fresco di studi perché ho fatto questo libro che voi vedete sulla storia dell'Avanti che poi la storia del socialismo e del secolo 1896-1993 e naturalmente in questo libro si dà anche lì per esteso questo intervento di Turati al congresso di Livorno che è assolutamente profetico, nella sostanza Turati con rispetto dice voi, dice ai comunisti che se ne vanno con Gramsci, inseguite oggi il mito della rivoluzione sovietica, il mito di Mosca ma vi accorgerete che questo mito è falso e tornerete sulla strada del socialismo democratico che è quello che deve accadere e che sta accadendo oggi. In effetti vedendo proprio le cose da Torino, che è una città importante per la sinistra, in effetti si vede subito che apparteniamo a una stessa famiglia che si è divisa ma che deve ritornare unita. Il comunismo è nato da una costola dell'Avanti ed è nato a Torino da questa costola dell'Avanti, perché pochi ricordano che Gramsci era il leader della edizione di Torino dell'Avanti, l'Avanti aveva tre edizioni allora, Milano, Roma e Torino, e a un certo momento l'edizione di Torino dell'Avanti diventa sempre più massimalista e a questo punto Serrati, che è il direttore centrale, la chiude. La chiude alla fine di dicembre del 1920 e un giorno dopo, il primo gennaio del 1921, Gramsci, Terracini e Togliatti, che erano i redattori dell'Avanti di Torino, negli stessi locali, con lo stesso telefono, con la stessa tipografia, fondano l'ordine nuovo quotidiano. E poverini si tassano ciascuno da un contributo perché mancavano i soldi, eccetera. Qui nasce da una costola dell'Avanti il comunismo, perché l'ordine nuovo, come si sa, è la culla del comunismo stesso. Voglio dire una cosa a proposito della Torino del tempo, che è poco conosciuta, anzi niente. Oggi ci si preoccupa per la Fiat, Marchionnes sente questa cosa e gli vengono i capelli dritti in testa. Ma nel 1920 ci fu l'idea di Agnelli, quello vero, di trasformare la Fiat in cooperativa. Agnelli chiese un incontro a Romita, che era il giovane deputato riformista di Torino, e sostanzialmente gli disse, e mi rendo conto che ormai la Fiat è diventata ingovernabile, che c'è l'occupazione delle fabbriche, eccetera. questa fabbrica ha un grande futuro, può diventare una grande fabbrica nel mondo, però dobbiamo superare questo momento drammatico, facciamone una cooperativa, io mantengo un ruolo di direzione e così salviamo l'azienda. Poi non se ne fece niente, ma insomma questo era. E ci fu un dibattito promosso dall'Avanti, io credo che l'articolo scrisce Gramsci stesso, perché non è firmato, ma per dire come le cose sono cambiate con il tempo. Bene, io credo che si debba fare dunque lo sforzo per trasformare la sinistra democratica italiana in un moderno partito socialista europeo ancorato alla storia del socialismo democratico. Dove sta la difficoltà? Perché ci sono i cattolici, io vedo qui autorevoli deputati e dirigenti cattolici del PD, ma in tutti i partiti socialisti europei ci sono i cattolici. Uno dei padri fondatori del partito socialista francese è Jacques Delors che è un cattolico. È un problema il fatto che ci siano nel PD, vicino al PD, penso a Selle, forze molto massimaliste, estremiste, ma dove sta il problema? Io frequento da tanti anni i congressi dei partiti socialisti europei, essendo un signore un po' all'antica mi spavento perché vedo giovanotti con gli orecchini, con la cola di cavallo lunga fin qua, io ma chi sono questi? Sono militanti del partito, troschisti, comunisti, soltanto che ciascuno la pensa a modo suo, è un grande partito socialista, poi alla fine si vota e chi ha la maggioranza lo governa e gli altri seguono. E così si fa e non si vede perché non si debba fare lo stesso anche in Italia. A proposito di massimalismo o estremismo, non è che abbiano torto quelli che avanzano una critica furibonda, asprissima a quello che è il sistema economico di oggi. E qui parlavamo prima di Turati, di Gramsci, ma questi nostri padri fondatori combattevano contro un capitalismo che era mille volte meglio di questa finanza internazionale di oggi. Si dice ancora troppo poco. Intanto la crisi economica mondiale nasce da questa banda di delinquenti, diciamo le cose come stanno, che hanno trasformato le borse in un casino senza frontiere e che hanno scommesso 20 quando possedevano uno. Quindi peggio che nei casino, perché nei casino se tu scommetti devi avergli i soldi per scommettere, questi non ce li hanno neanche i soldi per scommettere. Ma poi quei capitalisti di un tempo almeno producevano qualcosa. Questi non producono niente, producono solo carta. E carta dietro la quale non c'è niente. Titoli finti. I capitalisti di un tempo condividevano l'etica del lavoro, che è la etica nostra. Questi non hanno etica del lavoro. Questi hanno la etica del gatto e della volpe che incontrano Pinocchio e che spiegano a Pinocchio che se si mettono i soldi e le monete d'oro sotto terra poi crescono i soldi. E sì. E questi, mentre un tempo i capitalisti giocavano in borsa ma scommettevano sull'aumento della borsa, sul successo, sul progresso del paese, e questi a volte scommettono sul successo, a volte scommettono sulla catastrofe, perché giocano anche a ribasso. Un tempo i capitalisti rischiavano. Questi non rischiano niente, perché quando vincono prendono i soldi e quando perdono, siccome come dice Obama sono too big, too fail, troppo grandi per fallire, i soldi gli dà lo Stato. Qui non rischiano niente. Un tempo poi i capitalisti cercavano di avere influenza sui governi. Questi invece governano loro direttamente. Hanno privatizzato la politica, se così si può dire. Quindi non è che abbiano torto gli estremisti. Soltanto che bisogna ragionare sul fatto che ciascun singolo paese non può contrastare la finanza internazionale. Perché c'è una disparità abissale, la finanza, l'economia è globale, la politica è scioccamente chiusa in confini nazionali, anacronistici e ridicoli. Per cui i politici sono diventati dei poveri amministratori di condominio che non decidono niente e le grandi decisioni passano sopra la loro testa. Per contrastare questa finanza internazionale, per dargli delle regole, occorre un potere politico altrettanto sovranazionale e l'ambito minimo è l'Europa. Quindi una sinistra degna di questo nome deve innanzitutto convincere l'opinione pubblica sulla necessità di una grande battaglia per l'unità politica dell'Europa. Senza di questa non si va da nessuna parte e ciascun singolo paese non può che fare preso per le orecchie quello che ordino i poteri economici forti. Chiunque governi non può fare che questo. E qui bisogna anche dire che i nostri padri fondatori le cose le avevano viste per tempo. Perché Turati era stato profetico non solo, come ha detto però prevedendo che i comunisti sarebbero ritornati sul cammino del riformismo. Ma Turati nel 1896, nel suo primo discorso alla Camera, dice abbiamo bisogno degli Stati uniti d'Europa. 1896. E nel 1929, aggiunge una elaborazione, dice altrimenti diventeremo una colonia di quella nostra ex colonia di un tempo, gli Stati uniti d'America. E dice che l'unità politica dell'Europa non sarà possibile sino a che non sarà questo cancro che è il fascismo e che è l'anti-Europa. Queste parole, ci sono nel mio libro perché è uno dei punti essenziali, insegnano qualcosa per l'oggi. Perché la grande finanza anglosasso non vuole l'Europa politica unita? Esattamente per il motivo che diceva Turati. E questo cancro del fascismo, che è l'anti-Europa, si è riformato. Ed è per questo che l'Europa è in crisi. Si è riformato non come fascismo vero e proprio, ma come intolleranza, come razzismo, come egoismo, come nazionalismo, come populismo emergente in tutta Europa. Essendosi riformato questo cancro, l'Europa è andata in crisi. E i socialisti che avevano assimilato la lezione di Turati, nel 1947 al congresso socialista di Firenze avevano un grande slogan che dominava la platea, non c'è Europa senza socialismo, non c'è socialismo senza Europa. E anche questa è una lezione attuale. Socialismo che cos'è? È uno spirito di solidarietà politico. E senza uno spirito di solidarietà politico non c'è Europa, in effetti. Senza un minimo di socialismo e senza ritorno della politica non c'è Europa ed è il tema esattamente del momento. Ro vi poneva un argomento importante, quello della lezione di Rosselli. Devo dire che sull'Avanti in esilio a Parigi c'erano dei dibattiti di un livello incredibile, incrociavano le penne Saragat, Nenni, Rosselli. E Rosselli insiste su questo tema. E devo dire che Saragat non è d'accordo. Saragat non è d'accordo perché Saragat era marxista. Non parliamo poi di Nenni che era ancora di più, anzi era massimalista a quei tempi. Ma aveva ragione Rosselli. I socialisti italiani hanno cercato di imparare la lezione. Purtroppo si copia sempre in politica, non c'è mica mai niente di nuovo. Abbiamo tutti copiato. Nel 79, ricordo che io stesso, che sono un grande copiatore, lanciai con un libro che si chiamava Lib Lab, insieme a Enzo Bettiza, il tema del liberal socialismo. E lanciavamo questo tema copiando pari pari Rosselli. Non è che c'era niente da imparare. Eravamo dei divulgatori, devo dire. E ricordavamo che Rosselli insisteva sul tema che il socialismo è in qualche modo il continuatore del liberalismo. Perché rende i valori liberali, che erano dei valori ristretti a una elite, dei valori disponibili al popolo, alle masse. E in fondo c'è stato questo fenomeno. Perché i valori liberali oggi sono valori che appartengono al popolo. E' così. Però stiamo molto attenti a non confondere liberali con liberisti. E i liberisti di oggi sarebbero visti con orrore dai liberali. Ma non solo dai liberal socialisti come Rosselli, anche dai liberali veri come Inaudi. E Inaudi diceva delle cose che se le dicesse oggi lo prenderebbero per un estremista di estrema sinistra. Ad esempio insisteva sull'argomento dell'imposizione fiscale come strumento di ridisputazione del reddito. Insisteva sull'argomento della scuola pubblica come strumento per far sì che il merito, indipendentemente dalle condizioni economiche di partenza, selezioni la classe dirigente. Cose che oggi sono impensabili. Perché oggi si è capito che solo i figli dei ricchi fanno carriera. Quindi io credo che la lezione di Rosselli sia straordinariamente attuale ma ci insegni che quando si parla di liberali e di liberali socialisti si parla di qualcosa che è esattamente l'opposto di questo liberismo senza regole, pirata e immorale che sta devastando l'economia mondiale. Grazie a Ugo Intini. Sia per quello che ha detto che trovo estremamente condivisibile ma anche perché ci ha dato una chiave di lettura per passare dalla storia all'attualità. Allora io ne approfitto per ripassare la palla a Vannino Chiti con un paio di domande. Una parte appunto da quello che dicevi anche tu prima nel tuo primo intervento sull'Europa aggiungendo le cose che adesso ci ricordava Ugo Intini. Turati 1896, quindi parliamo di 116 anni fa, parlava di Stati Uniti d'Europa. E poi aggiungeva un po' di anni dopo, se no torneremo a essere una colonia di quella che era un giorno la nostra colonia cioè gli Stati Uniti d'America. Ancora una volta profetico, oggi in una situazione come quella che si è determinata, la crisi economica e tutte le cose che ci ricordava adesso Intini sul prevalenza della grande finanza internazionale anche rispetto non solo all'economia ma anche al potere politico. Quali sono le possibilità reali di riportare il dibattito anche culturale verso il tema dell'Europa? perché io dico una cosa banale ma il vero scontro non avviene in Europa oggi. Cioè se il 6 novembre Romney vince le elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America il destino dell'euro lo vedo estremamente difficoltoso, estremamente incerto. però quali sono le possibilità per la democrazia se ancora esiste in Italia e in Europa di fare un passo avanti anche verso il socialismo, verso un discorso che può necessariamente come dire riportare anche un partito come il PD in un alveo che è quello del socialismo europeo. E l'altra domanda che ti faccio parte da quella citazione sempre dell'intervento di Turati a Livorno che tu mi hai fatto vedere prima che vuoi utilizzare per un tuo prossimo intervento. Allora te la faccio fare subito. Dice Turati Sì, noi lottiamo troppo contro noi stessi, noi lavoriamo troppo spesso per i nostri nemici, noi creiamo la reazione, creiamo il fascismo, creiamo il Partito Popolare. Quanto è attuale questo discorso di Turati, Vannino Chidi? La prima parte di sicuro. No, ma prima vorrei dire questo, io penso che la costruzione degli Stati Uniti d'Europa sia oggi un obiettivo fondamentale e che noi dobbiamo prendere nelle nostre mani. Su questo sono d'accordo con Intini, dopo che te dico anche che questo per me diventa la grande discriminante su cui si riaggrega le forze progressiste in Europa, perché non basta del nome. Noi sappiamo benissimo che oggi, per esempio, tra gli stessi partiti che si chiamano socialisti, socialdemocratici o laboristi, su questo tema non c'è convergenza piena. Nel periodo in cui ci sono stati tanti governi progressisti di centro-sinistra in Europa, ad esempio per una fase le posizioni dei laboristi in Gran Bretagna erano più vicine a quelle del Partito Popolare di Asnarzio questo tema che su altre. Quindi ci sono contraddizioni che noi dobbiamo avvertire. Io penso che bisogna costruire, non mi interessa come si chiamano, bisogna costruire un grande campo progressista e di sinistra, come volete le parole, progressista, riformista in Europa e la prima discriminante per definirlo, per farlo stare in campo, metterlo insieme e far sì che la costruzione degli Stati Uniti d'Europa, nelle tappe graduali che assumerà, sia un obiettivo ideale che caratterizza e politico programmatico che viene assunto. Perché la prima risposta che l'Europa deve dare all'Europa la deve dare lei, la deve dare essa stessa. Oggi è chiaro che la storia del ventunesimo secolo è una storia che si gioca altrimenti in altre direzioni. Gli Stati Uniti, la Cina, l'India, la Russia, il Brasile e altre cose. Nessuno dei nostri paesi, neanche la Germania da sola ce la può fare. Non ce la può fare a essere protagonista nel mondo o a tentare di essere, non protagonista, co-protagonista, a dare delle regole. Non ce la può fare a far sì che certe, diciamo, a dare, a far vivere la democrazia in modo pieno in questa parte del continente. Perché le sfide economiche, il contributo, la vogliamo chiamare così, a una riforma del capitalismo per uscire da questa crisi. Non all'abolizione, ma a una riforma del capitalismo. In tutti i paesi se ne sta discutendo, tranne che in Italia, in cui se ne discute molto meno. Come si realizza oggi una riforma del capitalismo che faccia i conti con la risposta che deve dare alle persone e a popoli? Ci sono elementi di diseguaglianza molto seri al fatto che non ci sia una subalternità dell'economia reale rispetto alla finanza e della politica rispetto a tutte e due. Quindi come si danno delle regole al mercato? Quali regole? Prima ancora, come si danno delle regole al mercato? E la grande questione ecologica, la grande questione ambientale, la sfida del clima e la sfida di un modo di produrre che sia coerente col tema ambientale. Questi temi ci dicono anche, questi ultimi due che ho detto, non c'erano dentro, non ci potevano essere dentro. Se voi pensate anche ai contributi più grandi che ha dato la tradizione progressista, quella di cui parliamo, il tema c'era dentro una visione, non poteva esserci, una visione del progresso come un fatto illimitato, come un fatto che comunque si sarebbe potuto assumere, ci sarebbe stato. Oggi noi sappiamo che il progresso è tutt'altro che scontato. Il progresso è messo in discussione, le sfide che abbiamo di fronte ci dicono che ci può essere un futuro più avanzato o un futuro in cui si fanno enormi passi indietro da tutti i punti di vista. E non c'era e non poteva esserci la grande, drammatica, seria questione ambientale, la questione ecologica. Io penso che nel ventunesimo secolo, per una forza progressista, se dovessi definire tre parole, una l'ho già detto, gli Stati Uniti d'Europa, e l'altro che la giustizia sociale, l'uguaglianza nelle opportunità di vita, sono inseparabili dalla questione ecologica. Poi che va governata, non va testimoniata, e qui ci sono tutte le difficoltà che sappiamo. Allora è rispetto a questo che si ricostruiscono i confini, le culture politiche del ventunesimo secolo e i confini delle forze progressiste del ventunesimo secolo, nei paesi e a livello e a livello della dimensione europea. Io penso che questo lo dobbiamo farle emergere, per questo insisto. Io ho speranza e avevo speranza, ma questa esperienza che esiste, c'è un luogo in cui noi, Partito Democratico, il Partito di Nencini, i socialisti europei, le forze progressiste europee stanno insieme. E quel gruppo al Parlamento europeo, quel gruppo al Parlamento europeo deve riuscire a sprigionare non soltanto l'atteggiamento sulla vita del Parlamento europeo, ma un aiuto, una sollecitazione a una dimensione culturale e politica che abbia ambizioni maggiori e che sappia interloquire con le esperienze che ci sono a livello dei vari paesi. Altrimenti noi pensiamo che il campo delle forze progressiste europee sia la somma dei partiti che esistono nei vari paesi. Comunque si voglia fare questa somma, non funziona, perché deve essere coerente con determinate impostazioni e poi pensare anche ad una forma organizzativa. A me pare che questa sia la questione cruciale, per me queste sono le questioni cruciali, quelle a cui dobbiamo cercare di dare un contributo anche dal nostro Paese, andando oltre a volte le contingenze un po' più misere. Per quanto si riferisce alle questioni, all'altra profezia, diciamo, a quella che davvero vale, stiamo attenti che ci facciamo più male tra noi e ne facciamo male agli avversari. Questo credo davvero che purtroppo abbia corso lungo tutta la storia della sinistra e delle forze progressiste italiane e che possa continuare a correre. La voglio però collegare a un discorso che riguarda il mio partito, non le vicende quotidiane, primarie, ma le questioni più di fondo. Io penso che il Partito Democratico è nato con l'ambizione e con il progetto di essere la casa comune dei progressisti italiani, usa ancora questa parola, come si vuole, dei riformisti italiani, dei riformisti, le parole, l'ho già detto, sono non sufficienti rispetto alla cultura politica con cui ci dobbiamo misurare. Da questo punto di vista, che l'esperienza, da cui viene Ugo, che l'esperienza socialista non ci sia e diciamo si mantenga un punto separato nel partito socialista, io lo considero un fatto negativo, non è un dato solo quantitativo, è un dato di avere una sede dove, di avere un luogo comune in cui i progressisti insieme stanno. Da questo punto di vista in cui si recupera anche quella che fu una divisione lontana che oggi francamente nella storia, nella cultura e nella politica non ha grande fondamento. Così come, dal mio punto di vista, sì, se vendole e se fossero, ma non fossero per una misura, qui voglio essere chiaro, non fossero per una misura opportunistica, perché allora non mi interessa, fossero per una misura di condivisione di impostazioni culturali, di valori e di programmi, quelli a cui facevo riferimento. Così come mi pare che sia stato un elemento importante, non fatto trascurabile, che in Italia, comunque con il Partito Democratico, si sia realizzata quella che in altri paesi e in altri partiti, anche che si chiamano socialisti, socialdemocratici, eccetera, si era realizzata da tempo. Cioè che i progressisti che vengono dall'area cattolica e una parte dei progressisti che vengono dalla sinistra e una parte di quelli che vengono dall'ecologismo si siano trovati insieme, perché la storia italiana, questa anche quella dell'Ottocento e del Novecento, e la divisione del mondo in due blocchi contrapposti l'aveva impedito fino ad ora, non l'aveva consentito. E questo è comunque un grande fatto, che non è sufficiente perché, ripeto, per non farci male, per provare a far male agli avversari, bisogna che il Partito Democratico sia effettivamente la casa comune dei riformisti, progressisti italiani, così come bisogna costruire insieme un campo di forze progressiste a livello europeo che abbia quel spessore ideale e culturale e quegli obiettivi a cui facevo riferimento. Allora, quest'ultima parte del discorso di Vannino Chiti, penso che sia già una domanda nei confronti di Ugo Intini, che io però voglio esplicitare anche raccontandoti un mio fatto personale, cioè io nel 2008, dopo 23 anni in cui non ero più iscritto a Barito Socialista Italiano, mi sono re-iscritto come atto, come dire, di testimonianza, quando l'allora segretario del PD Veltroni decise di fare l'alleanza con Di Pietro e non con i socialisti, e adesso, vabbè, se bisogna andare a Balaclava a fare la carica dei 600, ci vado anch'io, insomma, mi hanno poi anche messo nel comitato centrale, mi è insaputa, non sono mai andato alle riunioni, confesso perché avevo altre cose da fare, a Milano abbiamo fatto qualcosa di abbastanza importante l'anno scorso, non so se avete presente l'elezione del sindaco Pisapia. Ma quello che io ho fatto per quel breve periodo, cioè io non, come dire, non do nessun giudizio naturalmente sulla testimonianza che continuano a dare Intini e altri compagni che sono rimasti nel PSI di oggi. Però mi sono chiesto nel 2010, dopo l'esperienza dell'elezione europea del 2009, che purtroppo anche per colpa di una legge elettorale voluta dall'allora segretario del PD Veltroni, continuiamo a fare nomi e cognomi, come dire, di chi ha commesso degli errori che hanno diviso la sinistra, l'esperienza di sinistra e libertà non arrivò al quorum per dare la rappresentanza ai socialisti, agli ecologisti, ai verdi, agli amici Nichi Vendolo usciti da rifondazione nel Parlamento europeo. Ecco, poi continuare a mantenere questo piccolo nucleo, come dire, questo partito di testimonianza 0,1%, mi è sembrato francamente inutile. Ecco, io in questo senso lo dico come testimonianza personale per quello che può valere di una persona che ha fatto politica quando era diversamente giovane e che oggi la fa diversamente, come dire, facendo un'attività professionale. Però nelle parole di Chiti c'è, come dire, un grande senso che io aggiungerei con un altro discorso. Manca, in quello che dice Chiti, l'appartenenza, come dire, anche se lui la dice in un altro modo molto bene, i progressisti, gli Stati Uniti d'Europa, però manca l'appartenenza ancora alla famiglia del socialismo europeo. Sì, c'è il gruppo parlamentare insieme al Parlamento europeo. Ecco, ma per esempio, l'idea che abbiamo lanciato noi dei circoli socialisti del nord-ovest, del gruppo di Volpedo, di una adesione diretta, individuale, al partito socialista europeo, anche saltando i partiti nazionali, non potrebbe sposarsi con quello che diceva Chiti. Cioè, uno sta nel PD, ha una componente socialista, un'area socialista, un'area culturale, riformista, più o meno grande, e poi può aderire direttamente, anche individualmente, come circoli al partito socialista europeo. Forse dopo oltre cent'anni di vita e di morte, e anche di resurrezione, magari, del socialismo, bisognerebbe cominciare a innovare. Ultimissima domanda, solo di attualità, perché è vero che i socialisti vogliono candidare un loro candidato alle primarie del centro-sinistra? Mi è giunta questa voce. Magari Intini può dare una risposta breve, sì o no, se smentisce o se dice che ci stanno pensando. Ma io credo che, come dicevo all'inizio, il PSI di Nencini, del quale sono un fedele militante, sia un partito che può avere l'1%, può avere il 2%, può avere il 3%, può avere lo 0,8%, questo non lo so, ma insomma, al di là di un certo limite, non va, perché i limiti organizzativi sono di visibilità, sono quelli che sono. Quindi ha una piccola forza numerica, ma può svolgere un compito molto importante, ed è per questo che noi ci teniamo molto a conservare una struttura organizzativa, un'identità, ha un compito importante, quello di cercare, di portare in questo partito della sinistra italiana la storia, la cultura, la tradizione del socialismo democratico e di agganciarlo alla grande famiglia dei partiti socialisti europei. È molto curioso che, mentre la politica oggi, essendosi il mondo rimpicciolito, è diventata assolutamente sovranazionale, è molto curioso che l'Italia abbia una situazione anomala. Non c'è motivo per cui, come in tutta Europa, la sinistra non si chiama in Italia una sinistra socialdemocratica. Uno dei motivi della crisi dell'Europa è anche la crisi dei partiti. Sono stati i partiti che hanno costruito l'Europa, i partiti socialisti, ma anche i partiti democristiani. E sono state le generazioni, parlo per i socialisti, di dirigenti che hanno avuto una solidarietà tra loro. Generazioni che si sono passati il testimone in una staffetta. E prima i Turati, Leon Blüm, Kauski, Bauer, Vandervelde, e poi generazione successiva, Saragat, Nenni, Wilson, Mendes-Francs, Mollet, Engris-Pack, e poi la generazione successiva ancora, Craxi, Pertini, Brand, Mitterrand, Gonzales. Ci vuole una nuova generazione e noi dobbiamo essere parte. Non è vero che non è stata vista la crisi economica mondiale dai socialisti. È stata vista, sì, io sono sempre stato un assiduo e diligente frequentatore dell'esecutivo del Partito Socialista Europeo e ricordo bene che alla vigilia delle elezioni politiche del 2006, Rasmussen, che era il presidente del Partito Socialista Europeo, disse oggi dedichiamo la riunione a un problema drammatico, urgente, gravissimo, la catastrofe economica imminente. E fece vedere una serie di slides, e poi ci detto uno studio alto così, in cui si spiegava che un crollo dell'economia mondiale dovuto alla finanza dissennata, ai titoli derivati, alle speculazioni, era del tutto imminente. E dopo pochi mesi il crollo c'è stato. I socialisti avevano visto benissimo. Certo, i socialisti europei hanno avuto e hanno al loro interno un elemento di debolezza, il blerismo, francamente io non ho mai capito Blair che cosa volesse. I compagni del mio partito se lo ricordano, ogni tanto dicevo questo Blair Blair che tutti si riempiono la bocca di questo termine, sembra un bla bla perché non si capisce cosa voglia. E poi i socialisti inglesi, i laburisti inglesi, sono inglesi. Churchill diceva che l'Atlantico è più stretto della manica e in effetti è sempre stato così e continua ad essere così. c'è una solidarietà anglosassone che va al di là di tutto. Però i padri fondatori dell'Europa avevano visto giusto, avevano fatto una scommessa rischiosa oltre ogni limite che io spero sia vincente. Sapevano benissimo che una moneta unica non può reggere senza una politica economica unica. Hanno detto cominciamo dalla moneta perché oggi tutto comincia con l'economia e poi il resto arriva per forza. Non hanno immaginato che nel frattempo la politica avrebbe perso la P maiuscola, i partiti avrebbero perso la P maiuscola, i dirigenti politici anziché pastori si sarebbero trasformati in pecore, cioè dirigenti politici, leader politici, non sono leader un accidente perché non conducono, non guidano niente, sono leader che guardano i sondaggi e dicono ah sì l'opinione pubblica vuole così e noi facciamo così e no i leader sono leader perché guidano, mica perché seguono l'opinione pubblica, perché cercano di convincere l'opinione pubblica e se non la convincono se ne vanno e invece questi sono diventati un gregge delle pecore non dei leader, De Gaulle era uno faccio per dire che non è della mia parte ma che però guidava e se non seguivano se ne andava e così ha fatto e così hanno sempre fatto i leader politici. Sempre i socialisti hanno detto ma prendete una moneta in mano, cosa c'è su una moneta? Una testa coronata simbolo della sovranità, una spada simbolo di un potere militare, di una difesa comune, una bilancia simbolo che c'è una giustizia comune e questo è una moneta e appesa a queste cose, non può essere appesa al nulla. Hanno rischiato molto i padri fondatori, non immaginavano di trovarsi di fronte a questo vuoto politico. Io però continuo a credere che proprio sull'orlo del precipizio alla fine si dimostrerà che hanno ragione, che presa per i capelli insomma la politica ritorna a fare il suo mestiere. Mancano i partiti e c'è da essere molto pessimisti perché purtroppo si vedono le pagliuzze ma non si vedono le travi. Per quale motivo si fa fatica a far vincere la sinistra ad esempio degli Stati Uniti dove Obama rischia di pedere? I soldi, i soldi. Le campagne elettorali americane costano una voragine di miliardi di dollari e questi li dà la finanza di Wall Street e li dà prima i repubblicani e poi anche Obama che al di là di un certo limite non osa spingersi. E non è vero che l'Europa non abbia identità, noi ci rassegniamo troppo facilmente a pensare che l'Europa non abbia identità. C'è un animus, una psicologia, una cultura del cittadino europeo che lo distingue dagli altri occidentali e anche dagli americani. E insomma in Europa c'è lo stato sociale e non c'è la pena di morte e in America esattamente il contrario. E non è una piccola cosa, c'è una certa differenza. E l'America che è il paese più ricco del mondo, gli Stati Uniti, ancora oggi non riesce a darsi uno stato sociale e non è una cosa da poco. Naturalmente adesso ci vengono a dire che lo stato sociale è una cosa che è superata e che non si può, però io credo che è entrata nell'animo degli europei perché di fatti nessun partito neanche di destra osa dire che lo stato sociale deve essere messo in discussione. Nessuno. Vorrei concludere dicendo anche che l'Europa verrà governata alla fine dal centro perché Hollande sta facendo una politica che insomma l'abbiamo vista. In Germania io penso che i socialisti francamente non vinceranno, però penso che non vincerà neanche la Merkel che andranno a una grande coalizione. In Olanda stanno andando a una grande coalizione perché l'area della pazzia, dell'estremismo, del populismo è stata sconfitta da due grandi partiti, quello liberale che può essere visto come un partito di centro e quello socialista. Potrebbe finire lo stesso modo anche in Italia. L'ostacolo è dovuto al fatto che c'è Berlusconi al centro e finché c'è Berlusconi il centro non è agibile. Bisogna anche dire che qualunque governo in queste condizioni è costretto a fare le stesse cose più o meno, ma che però la sinistra deve avere la lucidità per vedere quali sono le cose che si devono fare in Italia e che sono tipiche dell'Italia. Perché l'Italia è un paese purtroppo che rispetto agli altri paesi europei, dopo aver fatto le stesse cose che fanno gli altri, deve riflettere sull'urgenza di fare alcune cose che sono tipicamente italiane. E cioè l'Italia, primo, ha un'evasione fiscale da terzo mondo e qui sta il nodo di tutte le difficoltà economiche. Se risolvesse il tema dell'evasione fiscale noi avremmo già risolto tre quarti delle nostre difficoltà. Secondo, l'Italia è un paese dove intere regioni sono in mano la criminalità organizzata, non c'è nessun paese al mondo, in Europa che sia in queste condizioni, al mondo sì ma in Europa no. In Italia c'è una guerra tra due poteri dello Stato, magistratura e sistema politico, che dura da trent'anni, anzi di più, di più. Nel mio libro, io lo dico, sono rimasto stupito, anche io ho imparato molto scrivendo queste cose che non sapevo. Nel 64, Nenni scrive, l'unico potere in Italia è quello della magistratura, che è un potere assolutamente irresponsabile. E dice, ne abbiamo parlato con Moro, che accorda anche lui, nel 64. E in più, in Italia c'è un'altra anomalia unica, unica persino al mondo, perché neanche più in Sud America c'è questa anomalia. I partiti personali non esistono nelle democrazie. I Berlusconi, i Di Pietro, i Grillo, quelli sono partiti personali che non esistono nelle democrazie. E' così. Il primo problema nostro è di avere una politica, se vogliamo la moneta europea, dobbiamo avere anche la politica europea. E avere la politica europea significa... Infine, tu mi chiedi se ci sarà un candidato socialista alle primarie, non lo so, perché io sono un militante del mio piccolo partito, quindi non sono informato di queste cose. credo di far bene a fare il militante, perché non hanno torto quelli che dicono che non si può stare a fare i dirigenti politici in eterno. Bisogna passare la mano. Non ci mancano mica i giovani dirigenti. Il problema è che i vecchiti devono fare lo sforzo di raccontare ai giovani quella che è stata un'esperienza importante. Purtroppo il grandissimo, drammatico problema, uno dei drammatici problemi dell'Italia è che vent'anni di diseducazione politica, in qualche modo ci hanno consegnato una generazione che non sa che cos'è la politica, che non lo sa. Che non lo sa cosa sono stati i partiti per l'Italia. I partiti sono stati per l'Italia uno straordinario strumento di progresso. Ma per quale motivo l'Italia rischia di disgregarsi? Voglio dirne uno solo. I partiti hanno costruito l'unità dell'Italia. Perché nel dopoguerra, e dal dopoguerra in poi, un comunista, un democristiano, un socialista, oserei dire persino un missino, siciliano o trentino, prima era un militante politico e poi era siciliano o trentino. I partiti hanno costruito, hanno alfabetizzato politicamente generazioni di italiani che erano degli analfabeti politici perché erano stati diseducati dal fascismo e adesso sono stati diseducati di nuovo dal berlusconismo. I partiti hanno creato delle classi dirigenti, hanno creato un ascensore sociale. Ma non c'è più l'ascensore sociale in Italia. Un tempo i partiti avevano al loro interno grandi professori, per carità, grandi laureati, ma anche compagni operai che non erano andati a scuola, ma che però diventavano dirigenti del partito, perché sapevano come si trattava con la gente, imparavano. I partiti sono stati delle scuole di democrazia e anche un melting pot sociale. Purtroppo qui non si ricorda più niente di nessuno. Andando solo sulla rete, come fanno i grillini, non ci si guarda negli occhi, non c'è un rapporto umano e quindi ciascuno può dire quello che vuole e si permette di dire quello che vuole, ma guardandosi negli occhi è diverso. Ma nelle sezioni di partito, ma non parlo del mio, parlo di tutti, un tempo c'era il ricco, il povero, la grande personalità, la persona modesta è che tutti erano allo stesso livello e nei nostri partiti si chiamavano anche compagni, che non è una cosa da poco. Non è una cosa da poco, io non so perché ci si vergogna oggi di chiamarsi compagni. Io ho trovato una pagina di De Amicis, perché De Amicis era un compagno per l'appunto, eletto deputato a Torino, non lo ricordo nessuno, ma De Amicis è stato eletto deputato a Torino e si è dimesso, dopo pochissimo, dicendo guardate io so fare scritto, non sono capace di fare deputato e quindi si è dimesso il poverino, ma ha continuato a fare militante di partito e a scrivere sull'avanti e ha scritto una bellissima pagina spiegando il profondo significato della parola compagno. E purtroppo non ci si ricorda più di queste cose, perché sembra che i partiti siano delle associazioni criminali, ma i partiti sono quelli che hanno costruito l'Italia come oggi è e il declino dei partiti ha coinciso col declino dell'Italia e non c'è politica senza i partiti, è una illusione immaginare che ci può essere la politica senza i partiti. I partiti sono la spina dorsale della democrazia in qualunque democrazia del mondo ed è così, persino in Brasile la democrazia è decollata nel momento in cui i partiti si sono strutturati. E grazie a Dio è decollata mica per caso, grazie al nostro compagno, che era uno che faceva l'ustra scarpe, che era un povero ragazzo, che poi ha fatto il sindacalista e poi è diventato Presidente della Repubblica. E perché così succede nelle democrazie, mica necessariamente se non chiamare i grandi professori a fare i primi ministri, si possono chiamare anche i poveri ragazzi. Ebbè, i ricordi di Ugo Entini, di Lula adesso e prima di Diamicis, come dire, mi sembrano entrambi molto precisi. Tra l'altro, vorrei dire una cosa, io mi chiamo così perché mio nonno si chiamava Edmondo Rò, nato a Torino nel 1901 e fu chiamato in questo modo in onore, il mio bisnonno era direttore didattico in una scuola elementare, in onore di un suo amico che poi diventò anche deputato socialista, che si chiamava Edmondo Diamicis. Io vorrei far concludere, ci siano poi altre sollecitazioni, a Vannino Chiti con una domanda, anzi con due, sempre prendendo spunto dalle cose che diceva Ugo Entini. Io mi ricordo, come molti vedono in questa sala, in questa platea, insomma, dell'epoca in cui si andava nelle sezioni, oggi c'è la rete, oggi c'è la televisione, io ho visto per esempio ieri sera questo dibattito alla 7 che partiva da questo scoop, diciamo così, del fuori onda sulla mancanza di democrazia nel Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo e che però, a mio modesto avviso, parlo come professionista della comunicazione, si è trasformato in uno spottone di tre ore a favore del Movimento 5 Stelle. Allora, io mi chiedo, e ti chiedo, se i partiti di cui c'è ancora esigenza, come ricordava anche Intini, che devono anche riformarsi, riescono oggi di nuovo a intercettare la necessità, come dire, di non fare cortocircuito con l'opinione pubblica, perché di questo si tratta. Cioè, ormai la situazione, secondo me, rischia di sfuggire di mano, non solo per quello che ricordava Ugo Intini, cioè i partiti personali in Italia, dopo vent'anni che abbiamo avuto l'imprenditore, adesso ci si affida al comico, piuttosto che al professore. Cioè, da un lato c'è questa mentalità italiana un po' schizzata, dall'altro c'è una evidente incapacità dei partiti a ritrovare un meccanismo di partecipazione vera con la società civile. E da questo punto di vista, la seconda domanda riguarda le primarie. Allora, queste primarie del centro-sinistro, di cui non c'è ancora un regolamento, però, come dire, io sono rimasto abbastanza, devo dire, colpito, non è una persona che amo in particolare, ma ho un'intervista di oggi di Massimo Cacciari, che dice, ma come si fa, come dire, a chiedere a quelli del PDL di venirti a votare in occasione delle primarie. Sarebbe come se Obama avesse detto l'altra volta venitemi a votare i repubblicani in occasione delle primarie e non nel momento in cui ci sono le vere e proprie elezioni. Allora, al di là del fatto che Fiorentino, come Vannino Chiti, non so se tra Fiorentini, Guelfi e Ghibellini, come dire, quali siano i rapporti oggi, ma c'è un problema, come dire, anche di come si sviluppa la democrazia all'interno dei partiti, perché non solo c'è il fenomeno dei periodi personali, ma poi c'è anche il fenomeno, come dire, dei nuovi imbonitori, di cui evidentemente, come dire, la mamma è sempre incinta, no? Io sono d'accordo intanto su una considerazione che faceva Ugo Intini, cioè sul ruolo grande dei partiti che c'è stato, cioè il ruolo grande dei partiti nella storia d'Italia, la nascita del Partito Socialista, del Partito Popolare, cambiò la partecipazione di quelli che allora erano le masse popolari alla vita del Paese, e fece compiere dei progressi al Paese. Poi il ruolo avuto per la lotta contro il fascismo, per la Costituzione della Repubblica e per far diventare la Costituzione, la libertà, la democrazia nel DNA dei cittadini italiani, perché è assolutamente vero che questo non esisteva. Questo è un ruolo che bisogna tenere presente in questo massacro che si rischia di realizzare. Penso anche che i partiti che furono protagonisti della storia della Prima Repubblica hanno compiuto gravissimi errori, il primo e il più grande non hanno saputo loro tenere nelle mani la costruzione della fase 2 della vita della Repubblica, che non c'è, ma diciamo la costruzione della democrazia praticata dell'alternanza. E questo è stato un qualche cosa che è costato caro, poi dipeso da errori, da altre circostanze, ma oggi la domanda, io penso che i partiti debbano ricostruire un rapporto forte con i cittadini e per farlo dovrebbero fare alcune cose, però quando si dice non le fanno, poi bisogna anche distinguere chi non le fa. Per esempio, alle prossime elezioni potevamo andare a votare avendo il 20% o meno dei parlamentari, perché con l'esistenza delle regioni una riduzione del 20% del numero dei parlamentari è un qualche cosa di serio, non di demagogico, che fa funzionare meglio il Parlamento. Potevamo andare alle elezioni avendo un inizio, vi dico io, io ero, diciamo, tra quelli più critici, ma era un inizio su cui si poteva lavorare di differenziazione tra Camera e Senato e potevamo soprattutto andare alle elezioni avendo un rafforzamento del governo parlamentare. Il Parlamento avrebbe eletto il primo ministro come in Germania, come in Spagna e ci sarebbe stata la sfiducia costruttiva, cioè una volta eletto quel primo ministro per mandarlo a casa ci vogliono le elezioni oppure che la maggioranza dei parlamentari trovi un accordo su un altro parlamentare. Potevano essere in vigore nell'aprile del 2013, perché non sono state in vigore? La Commissione Affari Costituzionali del Senato l'aveva votate. In Aula c'è stato un cambio di posizione, non dei partiti, ma di un partito che si chiama PDL, è tornato Berlusconi e ha rimesso tutto in discussione, è tornato, non era mandato via, diciamo, si è riconcentrato Berlusconi e ha sparigliato le carte, è un accordo con la Lega, non essendoci stato le elezioni sono ancora maggioranza. Su che base è stato l'accordo? Su un Senato che si chiama Senato federale e cioè che è composto, scusate se mi dilungo un attimo, ma per dire, perché poi forse se ne discuterà più, Senato federale che è composto di 250 senatori eletti direttamente da cittadini, e va bene, 41-42, non ricordo, eletti da consigli regionali, poi ci sono i 20 presidenti di regione più due presidenti delle province autonome che possono partecipare a lavori del Senato o se invitati dal presidente del Senato sono obbligati a partecipare. Non votano, partecipano questi e non votano, quelli eletti da consigli regionali, quelli, i presidenti di regione, non votano, discutono e basta, quando il Senato non affronta le materie concorrenti, cioè le materie concorrenti sono le materie che sono di competenza, sia dello Stato centrale che delle regioni. Peccato che il Senato dovrebbe avere in queste materie concorrenti il cuore. E vi immaginate il fatto che il Senato non darebbe la fiducia al governo, ma il Senato potrebbe mandare a casa un governo, un governo, che mette la fiducia, lui, su un provvedimento concorrente, perché a quel punto votano tutti. Questo pasticcio si è accompagnato con una cosa che potrebbe essere una soluzione seria, se si decide. Non è un colpo di Stato. C'è in Francia, con il semipresidenzialismo. Lo sosteneva Piero Calamandrei alla Costituente. È stato per un tempo la posizione del Partito Socialista. Il semipresidenzialismo è una soluzione democratica. La nostra Costituzione è una Costituzione che ha scelto la via parlamentare, il Parlamento. È più facile fare il Primo Ministro, rafforzare il governo parlamentare col Primo Ministro, con la sfiducia costruttiva. Si può fare, ma per farlo bisogna, primo, che i cittadini italiani lo vogliano. Quindi sentire se i cittadini italiani vogliono il semipresidenzialismo. Secondo, non farglielo sulla testa. Vi immaginate voi, altro che il ruolo dei partiti. Il Parlamento approva il semipresidenzialismo e senza neanche sentire i cittadini italiani si ritrova a aprile, insomma, era un'invenzione che ha fatto naffragare tutto. Altre cose sono dovute a noi, per esempio, non capisco perché non si riesca a imporre o perlomeno a far votare contro qualcuno l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione che dà ai partiti non più una forma di associazione privata ma di natura giuridica e quindi devono mantenere al loro interno una forma di democrazia un tempo discutevamo io ho cominciato a fare politica nel PC contestando due cose allora ero giovane il centralismo democratico e diciamo come si concepiva certe politiche su contenuto sulle alleanze benissimo c'era una grande discussione anche chi non avrebbe mai votato per il PSI per il PC per l'ADC ma la cultura italiana i cittadini italiani discutevano sul tasso di democrazia che esisteva nei partiti c'è qualcuno che mi sa dire quando c'è stato un congresso prima di Forza Italia poi del PDL quando c'è stato il penultimo l'ultimo lo sappiamo tutti perché sono successe delle vicende serie ma i congressi della Lega allora un partito può governare senza addirittura fare dei congressi io non lo voterò ma mi interessa se quel partito al suo interno ha un minimo di democrazia perché governerà il mio paese sarà anche il mio governo i partiti personali di cui diceva Ugo Intini e bisogna ricostruire partiti smettendo di fare errori anche opponendoci però a campagne che sono campagne che non sono soltanto contro i partiti sono contro la democrazia rappresentativa e non ne conosco una migliore io sono perché un partito noi l'abbiamo faccia funzionare meglio i circoli faccia decidere e sia un partito al suo interno che anche percorsi federativi per esempio ce l'hanno i socialisti spagnoli quindi ci siano sedi di discussioni ci sia una fondazione come in Germania che dia un'analisi un tema di approfondimento su cui io posso dire una cosa diversa ma almeno ci sia una sede su cui alcune cose si approfondiscono ci sia anche la rete la rete va utilizzata la comunicazione va utilizzata ma non bisogna essere acritici lo sappiamo tutti che il 90% dei contenuti che sono sulla rete sono fatti dal 10% di quelli che si chiamano influenzatori poi Grillo le giocherà per come le vuole giocare lui un altro per come le vuole giocare noi dobbiamo sapere che la rete è importante esserci essere presente non è tutto perché bisogna poter discutere e soprattutto sulla rete ci si scambia opinioni si fanno opinioni si progetta una posizione non si decide perché la decisione la possono prendere le assemblee elettive altrimenti c'è un populismo nessuno sa in quali forme nuove ma è un populismo non è la democrazia rappresentativa che decide il decisore nella democrazia è un punto importante sulle primarie ma intanto io dico le mie posizioni personali intanto se viene fatta una legge elettorale come quella che si annuncia se davvero c'è un accordo tra Pdl Lega e Udc che non è quella tedesca è una legge elettorale con uno sbarramento al 5% e le preferenze francamente si può fare tutto ma non si dica che si sa chi sarà il presidente del consiglio perché per sapere chi è il presidente del consiglio ci vuole una legge come quella spagnola o come quella tedesca o come quella francese cioè una legge che dice che chi vince forma un governo e quindi il candidato di quella coalizione lo formerà il governo se si va in una legge che questo non c'è si può fare le primarie che si vuole ma non si sa chi sarà il governo neanche quando sono chiuse le urne e questo è un ritorno indietro chi sarà che fa il presidente del consiglio a chi toccherà il presidente del consiglio io poi mi auguro non è questo diciamo a questo punto lo possono presentare i socialistici e vendola ce ne sono tanti però guardate io mi auguro che un giorno in Italia vicino magari alla prossima legislatura ci sia un bipolarismo che funziona governo parlamentare con la sfiducia costruttiva un governo che funziona quando si va a votare si scegliono i rappresentanti in Parlamento e si contribuisca a scegliere maggioranze che poi governano per la legislatura o vanno a casa se non sanno governare perché in quel momento e in quel momento come in tutti i paesi del mondo avanzati europei sia il leader del partito più grande di quella coalizione che governa che forma il governo che fa il primo ministro perché non mi si venga a dire che se vince ora lasciamo stare le vicende dentro il PD non voglio entrare non voglio utilizzare queste ma con tutto rispetto vince vendola vendola è in grado di dirigere un governo parlamentare in cui il primo partito non esprime il presidente del consiglio ma vi risulta che in Germania quando c'è l'alleanza tra democristiani e liberali o quella tra socialdemocratici e verdi sono le due alleanze vi risulta che i liberali dicono discutiamo se il cancelliere si fa a noi ma non scherziamo in Germania quando c'è stata la grande coalizione tra democristiani e socialdemocratici la Angela Merkel che aveva uno 0-2 in più 0-2 ha fatto il cancelliere perché chi arriva primo esprime il capo del governo e in Spagna il primo governo Asnar e i due governi Zapatero il partito popolare lì è la democrazia cristiana spagnolo e il partito socialista spagnolo non avevano la maggioranza assoluta non due seggi come noi Ugo al senato non avevano la maggioranza assoluta nelle corte se nel parlamento spagnolo ma lì è normale che il partito che vince le elezioni forma il governo non è che chi arriva secondo offra partiti regionali quattro cose di più di quello che gli offre il primo no ha il diritto di formare il governo che ha vinto le elezioni forma un accordo per eleggere il primo ministro e poi c'è la sfiducia costruttiva la nostra democrazia comincerà a funzionare e partiti ricominceranno a esserci a funzionare quando queste cose ci saranno perché è così che funziona ogni democrazia al mondo e speriamo che quello che appena ha detto Vannino Chiti sia una profezia che sia vera perché io vorrei concludere mi spiace non poter dare spazio al dibattito ma poi c'è anche un altro dibattito dopo e l'ultima cosa che voglio dire è che nei miei conti con il marxismo di Carlo Rosselli lui ricorda che il socialismo senza democrazia è come volere la botte piena e la moglie ubriaca voglia dire gli uomini non servi coscienze non numeri produttori non prodotti la botte piena e la moglie ubriaca no non può essere così grazie buona serata grazie